Mercoledì 23 gennaio la solidarietà ha indossato i colori dello sport con l'amichevole di lusso in cui al San Vito il Cosenza ha incontrato il Sion di Rino Gattuso. Un altro momento di vicinanza della città di Cosenza nei confronti delle popolazioni del Pollino colpite dal sisma del 26 ottobre scorso. L'incontro è stato organizzato dalla società del presidente Eugenio Guarascio insieme all'amministrazione comunale a favore dei terremotati di Mormanno con ingresso libero ma per l'occasione è stata promossa una raccolta fondi attraverso i contributi volontari degli spettatori. Una particolare serata, dobbiamo ringraziare il pubblico cosentino che dà dimostrazione dalla sua sensibilità partecipando in massa a questa serata che è segno di solidarietà per Mormanno ma anche di riconoscenza verso questo nostro campione. Oggi un'altra dimostrazione di vicinanza e di affetto quindi non posso fare altro che ringraziare tutti i cosentini, l'amministrazione e tutti coloro i quali in questi giorni, anzi durante questi due mesi e mezzo ci sono stati vicini e continuano ad esserci vicini quindi grazie ancora a Cosenza. Possiamo dire che Cosenza ormai ci ha adottato, Mormanno credo che sarà molto grata alla città di Cosenza di questa vicinanza in un momento in cui è complicato far capire quello che ci è accaduto e quindi veramente un grazie di cuore a tutti e anche gli sportivi, c'è stata una partecipazione molto bella del pubblico e anche questo è un grande segnale di incoraggiamento. Siamo contenti che almeno su questo terreno continua questa attenzione ed è molto importante, quindi andiamo avanti in questo modo e poi speriamo che prima o poi le istituzioni colgano anche questi segnali che arrivano dai settori della società civile. L'amichevole si è conclusa con il risultato di 2 a 1 a favore del Sion, l'attuale squadra del campionato svizzero di Rino Gattuso che è ad un punto dalla zona Champions League a 5 punti dalla vetta.